cari ascoltatori e ascoltatrici buongiorno e soprattutto buon sabato oggi infatti è sabato 6 febbraio e il salmo che sto per leggervi è il salmo 66 i versetti da 1 a 4 fate acclamazioni a dio voi tutti abitanti della terra cantate la gloria del suo nome rendete gloriosa la sua lode dite a dio come sono tremende le tue opere per la grandezza della tua forza i tuoi nemici ti aduleranno tutta la terra si prosterà dinanzi a te e a te salmeggerà salmeggerà al tuo nome l'autore di questo salmo non ci è conosciuto non sappiamo chi chi sia ma sicuramente abbiamo la certezza che questo è un salmo ispirato dallo spirito santo questo salmo esprime una grandissima gioia la gioia dei credenti la gioia dei redenti veramente ci invita a esprimere una grandissima lode con tutto il nostro cuore fate acclamazioni a dio più chiaro di così non 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 ci sono modi per poter appunto esprimere questo sentimento di gioia e l'invito è verso tutti gli abitanti della terra sappiamo appunto che purtroppo non tutti accettano hanno accettato e accetteranno il signore ma in questo versetto viene espressa la volontà di dio il suo amore per noi e li desidera che tutti gli abitanti della terra gioiscano assieme a lui perché lui vorrebbe tanto salvare tutti ma ci lascia liberi e sappiamo che purtroppo come gesù stesso dice nel vangelo la maggior parte preferiscono la strada larga la strada del proprio cuore e non la strada che dio ha preparato per ciascuno di noi che vuole metterci dinanzi nel nostro cammino cantate la gloria del suo nome l'elemento del canto mi fa venire appunto in mente il sabato mattina in chiesa è vero noi daremo il meglio della gloria della lode del canto il giorno del ritorno del signore sarà un evento straordinario un evento descritto nella bibbia ma che va oltre l'umana immaginazione e sebbene qui sulla terra appunto possiamo esprimere gioia contentezza felicità giubilo quando vedremo ritornare il signore dalle nuvole e sapremo appunto che finalmente la malvagità il peccato la sofferenza il dolore saranno sconfitti qui sulla terra veramente inalzeremo un grido a squarciagola un grandissimo grido di gioia come non mai ma intanto noi possiamo beneficiare della presenza del signore e dei nostri fratelli e delle nostre sorelle già qui sulla terra e il sabato appunto questo scopo uno degli scopi del sabato è proprio questo il momento della lode il sabato offre anche questa possibilità rendete gloriosa la sua lode mi chiedo come si può rendere gloriosa la lode al signore chiediamolo in preghiera lasciamoci ispirare dallo spirito santo chiediamo a dio come sfruttare meglio questo dono che il signore ci ha fatto quello della musica quello della della lode dite a dio come sono tremende le tue opere qui la parola tremenda non ha un significato negativo di solito per tremendo intendiamo qualcosa di spaventoso ma qui tremendo ha un altro significato nel senso come è grandioso stupefacente maestoso quindi le opere del signore sono qualcosa di eccezionale è bello non avevo mai pensato a esclamare questo al signore qui c'è proprio un invito fatto dal salmista dire signore come bella la tua opera e quale giorno migliore del sabato per poter dire questo il signore si riposò di sabato e contemplò la sua opera e non volle farlo da solo no lo fece insieme a adam e deva il sabato può essere ancora oggi un modo per contemplare l'opera del signore soprattutto quando ci sono delle belle giornate di primavera anche di autunno soprattutto d'estate che bello poter trascorrere alcune ore di questa giornata con i nostri fratelli le nostre sorelle all'aria aperta in mezzo alla natura per chi ha la possibilità e contemplare con dio il creato che nonostante geme ed è afflitto dal peccato e dalle opere sciagurate dell'uomo che distrugge l'opera magnifica di dio ma che ancora oggi essa ci parla e ci mostra non solo la grandezza ma la bellezza il buon gusto del nostro salvatore che allo stesso tempo oltre ad essere creatore è veramente uno straordinario artista qui dice per la grandezza della tua forza i tuoi nemici ti aduleranno anche i nemici avranno dei complimenti da fare a dio ma sono delle adulazioni l'adulatore è un ipocrita mette in risalto delle doti buone di una persona ma non lo fa con animo sincero lo fa con animo doppio ha un altro scopo in mente tutta la terra si prostrerà dinanzi a te e a te salmeggerà salmeggerà al tuo nome bene che questo sia il pensiero per oggi il pensiero nostro quello di salmeggiare il nome di dio viviamo questo sabato all'insegna quindi della lode del del canto della gioia del salmeggiare al nome del signore in attesa appunto come vi dicevo prima del giorno stupendo dove i redenti potranno innalzare al signore un cantico nuovo il cantico appunto dei redenti che il signore ci benedica in questa giornata che il signore ci aiuti a viverla secondo la sua volontà che il signore ci dia una stupenda giornata di sabato io auguro a voi tutti un buon sabato vi auguro la pace del signore e le sue benedizioni amén vi auguro la pace del signore